Grazie a tutti. La comunità si attrezzasse in modo tale che queste testimonianze raccolte, questi racconti in viva voce trovassero modo per essere conservati anche al di là della tesi che ne ha tratto, utilizzandone dei frammenti, il dottor Infantolino. Questo lo dico a voi più che a lui. Dove stiamo fare una politica. Va bene. Allora, diciamo che il nostro lavoro è stato da 86, c'era una media di 110, per cui quello non si discuteva. La fine è stata, abbiamo impagnotato, abbiamo avuto i massimi del conteggio, di conseguenza formalmente, diciamo, la commissione che conferisce Salone, che dice che 10 e 9, con gratulazione. Grazie. 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 Grazie.